Nell'ultima puntata di Mattino 5 Federica Panicucci ha messo con le spalle al muro Alex Belli e la moglie Delia Duran. La conduttrice ha infatti ospitato il paparazzo che ha immortalato la modella con il presunto amante e sono venuti fuori alcuni dettagli molto interessanti. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip abbiamo assistito a uno scontro tra i due presunti sposi. Delia Duran ha infatti detto di volersi prendere una pausa e di entrare al Grande Fratello da single. La donna infatti è stufa di tutti i post che Alex Belli continua a dedicare alla sua amica speciale Soleil e i due finiscono per litigare in diretta TV. Ma adesso è a Mattino 5 che si parla dei due e a farlo è proprio il paparazzo che ha fotografato Delia Duran in atteggiamenti molto intimi con un tale Carlo. Il paparazzo racconta che tra i due non c'è stato semplicemente un bacio ma che Delia e l'uomo hanno continuato a scambiarsi delle effusioni amorose per tutta la sera. I due avrebbero continuato a baciarsi anche fuori dal locale e sarebbero andati via insieme. Alex aveva sostenuto che il tutto era solo una montatura mentre invece la moglie ha trascorso veramente una serata insieme ad un altro uomo. Insomma non possiamo che attendere l'ingresso di Delia al Grande Fratello Vip. E tu cosa ne pensi? Alla prossima. Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti.